Andrea Fontana, primo weekend del campionato Porsche Carrera Capitale 2015, le tue ambizioni, le tue aspettative per il tuo esordio insomma anche nelle ruote coperte? Sicuramente dobbiamo vedere un po' le qualifiche come andranno e poi vedere un po' come si può affrontare la gara, ci aspettiamo di poter far bene, poi di più non ti saprei dire. Qual è stata la tua prima impressione anche della due giorni di assessment a cui hai partecipato in qualità di membro scelto da Porsche Italia dello Scholarship Programme 2015? Sono stati due giorni veramente formativi, abbiamo imparato molto, ci siamo anche divertiti e niente, sicuramente da rifare perché è un'esperienza che ci ha dato qualcosa a livello personale. Obiettivi per il futuro, dunque tu pensi che questa categoria possa costituire il trampolino di lancio anche per la tua carriera? Ma sì, diciamo che l'obiettivo è quello, poi spende un po' da come andrà il campionato, quindi per il prossimo anno vedremo più avanti a fine stagione.